Nell'episodio precedente di Outlast Che gioco bello Giro di flusso, corri Stai sicuro, vedremo correre E in questo episodio di Outlast Stai spaccando Porco Dio, sporco Se non sa, perché stai zitto Adesso giochi tu e va a far culo Perfetto Siamo appena stati dilaniati da una tizia Allora, non correre dritto, corri da qualsiasi parte ma non dritto Ho la soluzione Non corro Mi facciamo alciare Se arriva Allora, vediamo da dove arriva la tizia Che tanto sembra essere lenta La tizia, no no, non sembra essere il cazzo lenta Fermo, fermo Arriva da davanti Eccola, eccola lì E quindi dobbiamo fargli fare un giro strano Io faccio il giro bello No, dai È sparita nel nulla Sembra Terminator No, seriamente è sparita nel nulla Corri Fermo, non corro Ma andai, che è a fanculo Qua sotto, adesso Muomenti 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 E' su tipo buon Muomenti Sono salvi Sono salvi Ti rendi conto che ho più tensione adesso? La musica è sparita, quindi in teoria siamo salvi No Speraci No, il problema è che non c'è musica, quindi è quello che mi spaventa Puoi esportare con gli oggetti vicinale a un metro quadrato Ok Ok Oh, sta l'oggetto E ci siamo Ok E dove vado? Sulle palle di fienno No No, no, solo la scala che è mezza rotta usando l'oggetto Quindi devi tirarti la sinistra Esatto Esattamente Ah, non è Bravo Rosso C'è sempre Oddio 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 Abbassati Perché è la cosa più giusta Perché sennò non ti spaventi se non ti abbassi Quale principio? Non lo so Sei solo impazzente Adesso crolla il soffitto Tata Tata Un veggente Sì E non ho guardato un giorno Ci manca solo che adesso c'è una lama qua dentro Dio lo vedi? E' qua E' qua E' lì Dio mi vuole morto? Ok Ti vuole morto Io dove vado? Prima Ah, ho visto qualcosa C'è in un'altra zona Però la torcia non puoi prenderla ovviamente Perché dovresti prendere la cazzo di torcia Non serve, no E' invisibile Sì Inferno Ma saluti qualcosa Batterie Io c'ho un pochino Sì, ce ne dovremmo avere ancora Forse Aspetta Sì Vediamo Vediamo Due Bene Non usare l'infrarosso Anzi Ti rivedo Non usare l'infrarosso Non serve niente Ma qua ci vede Qua invece Adesso non usci Perché devo uscire? Perché Dio ti vuole morto Abbastanza semplice C'era una cosa illuminata Sì, dov'è? Là No, era il video Ah, il video Peccato Fermati e cambia Ma secondo me è cambiata fuori? Fermi la camera e prendi il microfono Premi la freccia a sinistra Prendi la freccia a sinistra C'è qualcuno lì fuori paremmi Dove? Guarda Guarda come cacchio si alza il microfono a sinistra Chiudi la chiave Finca se chiude la chiave E adesso vedi che sono a destra E tu ce l'hai nel culo Ok No, non ce l'hai nel culo Apri Oh Esci da qui Dio Scusa Si chiama ansia Ah puoi nasconderti tra le piante Grazie Dio Ah lo vuoi salvami tu Beh Ehm Io non guarderei adesso il cancello Guarderei Ecco guarderei lì C'è un tizio a sinistra Ma secondo me il microfono ti fa consumare più batteria Probabile Però io sento gente a destra Io sento gente di là Ma la si perde l'inizio Ma anche di qua Io ho visto Sinistra Sinistra Mordo sinistra Tanto sinistra Oh Il fuoco È il fuoco È il fuoco il fuoco C'è il fuoco Ha il tizio Ha il fuoco Ha il tizio Ha il tizio ulasia Sei il cazzo piu vicino di quello nei dina destra E' ho 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 E qua si viene Vedi che c'è il tizio a destra Ma la cazzo vado Nella casa Nella casa C'è il tizio li inizia che c'è uno di per me non mi sento di questo non c'è un microfono aria o per il giro la per il quadro e no vai dritto vai dritto vai dritto no vai dritto di lì ce n'è uno la di la c'è appena andato di lì di lì di lì dritto mi vedono mi vedo quello c'è il fuoco fuoco male oh allora quando puoi rimanerci fai qualcosa decidi e va beh vaffanculo buttate l'erba subito stai immobili grazia siamo solo all'inizio tanto cazzo diverso sto gioco rispetto al suo predecessore almeno ok allora io non ho niente ce n'è uno dietro adesso fermati l'ho sentito c'è uno dietro rosso fermati ce n'è uno dietro rosso fermati l'ho sentito c'è una macchina corre l'arrivo rarrivo 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 e di legge lei rarrivo salta x con questo cambio con questo muori con questo mi fa un cazzo la strada c'era no appena ha girato un po' l'angolo vai 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 non ha passato molto l'angolo mi sono sentito si, ti ha sentito corri con me perché escevo la tua che non so stare in piedi oh vai corri vai corri c'era la luce di Dio Johnny non è chi se ne frega no anzi continua registrare vai piano vai vai non so provo a aprire no coca cosa fa io sono andato con lui che è solo in tutto qui io sono andato con lui papà dai dai noi siamo la risposta all'anticrisi wow non si era spettino che si era giusto questo cosa sta dicendo eh no è un concetto molto interessante gloria e' ora Dio ci ha inviato questa donna no 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 No, infatti mi spaventa dove sia la moglie Dove sia? La donna Toglitele No, no, no No, vabbè E' tua moglie, tranquillo Ah no E' Stato qua E' lì Ma lì 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 Forse c'è una batteria, non c'è un cazzo Tieni giù, lo senti C'è una madonna E poi non lo vuoi eh Eh Vieni, mi lascia da dirti Stando facendo un sacrificio Oh Ma che cazzo è? Un concetto molto interessante ma la porta non si apre Forse non è la strada giusta No, secondo me indietro Tipo no, vabbè cerca a destra a sinistra Il problema è che non abbiamo più batterie Forse... ah ecco Che affare? Veramente? Potevamo evitarci tutta la solfa Perchè questo tizio scivola? Se tieni i permuc... no, se il premicerchio mentre cuore scivola Alzati piedi In piedi al piedi Lazzaro... Il batteria cammina Ah devi premere questo E' ancora una Cavoli Eh vabbè Perchè mi sembra tanta la musica di Dark Souls questa qua Ma se io faccio così A te quel Dormboard è quello Ci sta, non consumi Cazzo Nessun Dorm Ma io sto più indietro possibile dalla televisione No ma c'è Dio Si c'è Dio Vabbè credici Aspetta guarda un po' a destra a sinistra Magari in una di queste due porte c'è qualche batteria Nell'altra Credici c'è il portone su questo Questo è appena Ah c'è un documento Aspetta registro Pagine dell'inferno una prossima La vagina dell'inferno La vagina dell'inferno E? Sono dei versetti Si Si poi parla della scuola di vagina Se voglio Spuocca la sua Perché lo fa? Ehi ciao Apri Nooo Ma la porta di prima di Gesù Christ Secondo te non c'era niente Ma ancora lei? Non c'era niente da fare Si non si può Non posso interagirci non c'è niente, sono una luce bianca una fessura tu volevi entrarci era troppo facile il nostro amico roll sta giocando in contemporanea ai incubo no, che incubo, folle ah si? prendo all'ultima modalità di... no, non gioca all'ultima, la penultima è malato ma quanto tempo? vieni, vieni fermatissimo carpe abissum a tu carpe è tipo cogli una carpe no, carpe dime cogli la tu ah, ma è lei che fa la faccia ah, ma ma una faccia normale in questo mondo no non volevi vai ma c'è un tizio lì dentro, l'hai visto? si con la gabbia in terra si, certo, ho messo il microfono a posto proprio per il gancio, che c'è? ma io tu devi passare qua sotto ah, ma io aspetta lì dentro c'è qualcosa un attimo controllo sempre dammi il gancio e lasciami appena cazzo ma là dentro c'è un documento simon perfetto, bellissimo c'è un documento ma è batteria batteria una torcia ma non funziona no adesso cadiamo giù eh, vabbè ah, è una donna quella lì eh sì perché mai dovrei farlo so che pappa che ora te l'ascolto quindi ti chiedo di riferire Simo, fai vedere la telecamera sennò si consuma la batteria anche mentre le leggiamo togliate la camera proprio non si vede scelto tu, bene metterete pausa nel momento in cui c'era la luce giusto? lì però lì sotto 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 e? eh? sotto il cerchio brucia oh no ok lui, ok ci siamo ricarica, ricarica ti serve una chiave dove? o se in una chiave come le apro? shhh che la fare? ah, devi dare il gancio al tizio eh, io senti tu un gancio eh, cazzo c'era dove lo trovo? il gancio che cavolo è lì è la chiave la vedo che si illumina guarda io mi fido ma non mi fido corri sia il su pelo distanza è il terreno per il suo posso ição sicuramente qualcosa succede se qualcuno ha dietro o no? ma ti lo racconta? dammi la mano oh figlio! è nostro figlio! è il nostro figlio! la botola! si è andato in mezzo a me troia insomma ci sono crocifissi anche quelle cose, le candele hanno crocifissi quelle specie di prete grasso come fai sempre a dire che è bloccata? madre delle prostitute e degli orrori della terra vuoi nasconderti in corda? nasconderti nell'armaggio dai cosi tira fuori il microfono no, ciao no, venici tieni premuto? casbircia morti no? metta tira su la... esatto fermo qui ah è un altro... il vangelo di sallivan no e ci sembra la vagina la vagina dell'inferno è un altro pezzo ah ah beh così via altri crescenti belli apri affambagno vai assolta niente paura ok ti abbiatemi le mani di rosso no ricerca aspetta forse si vede qualcosa tra il fessore c'è tizio c'è un 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 tizio due ma sono tirati di spalle quindi tu tu te ne vai lenti guarda come ci vuole guarda quel buco lì eh guarda io vorrei sapere anche il naso io mi preparo a saltare ma che ora cinque e vuoi dai ma non c'è un calcio nessuno eh c'è sempre il tempo di saltare fuori qualcuno guarda il buco no ma non sto guardandoti come sto facendo no stai stai spaggando guarda come è una buccia ma io non ho questo è della finestra bravo è volato giù qualcuno togli l'infrarossa è tua moglie ah è vero non puoi saltare giù dalla finestra si si può secondo me cambia la batteria prova secondo me salta giù prova a saltare si si primi cerchi ah oh cazzo porca mi finita giù guarda lì ah non è lei oh dio sei ok no che f*** non lo so oh cazzo dobbiamo correre un tizio col cappello tu corri e io sto provando a correre corri corri non farti acchiappare e non si e non si ciò che dio ha unito via da qui quelli lo separano non posso far niente non posso far niente non posso far niente esatto no forse si però non ci si vede un cazzo che cazzo hai che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo perché mi sembra tanto foresta questo luogo perché è troppo aperto per i miei gusti non posso guardarmi neanche più indietro secondo me sta morendo zio perché no morire è la cosa migliore che ti posso capitare quando ti falli pensavo che siamo tutti morti è ok sono qui siamo qui siamo qui siamo qui siamo qui cosa fanno te io non posso parlare non mi chiedi non mi chiedi dopo tutto sono venuta sono venuta sono venuta non mi chiede non mi chiede se la sono rubata poi dai non mi chiede non mi chiede non mi chiede non mi chiede non ни chiede sono venuta guardate non mi chiede Poi che tempo stavamo aspettando un figlio è è è stupendo sono stupendo per pro Cosa? 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 Ok Certo, uccidiamoli tutti Cosa? 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 Massä Cosa? No, non, 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 non! Non, 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 non! Non ti traccio! Cosa? 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 Cosa meglio ci sono persone prescind molte di誰iche gianche Shame theirير dystar ogni cosa L'hoorevole al g смотрите C'è un coloma chiave? C'è una fronte? da qualcuno la tizia mi hanno eh ho guardato il mio padre tutta la morte no gli sta succedendo mettendo le dita negli occhi ssh ma cos'è ma cos'è quella roba lì devo oh 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 c'è c'è un bambino la sotto c'è la casa ma cos'è quel coso di un impo figa ah quello che è non sono eretico io non ti amo ma è uno ma è uno ma è uno 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 non 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 è una setta? E' anticristiani E' qualcosa altro Ma tua moglie ce ne sono portati via ancora lì? No no, ce ne sono portati via Quanto manca? Quanto manca? Due minuti Alla fine di quello, perfetto Aspetta Interrompiamo dopo Se il video ci lascia un commento Non ci sento Mi sta sudando l'orecchio Io non ci sento un commento Se mi avete lasciato un commento Mettete mi piace Non iscrivetevi E noi ci vediamo in un prossimo video Dove Roma non ci sa Dove Roma non ci sa Ciao